Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi parliamo di un caso che ha sconvolto l'America negli anni Ottanta, di un inquietante e misterioso serial che ha terrorizzato le strade della sua città e messo a dura prova le capacità delle forze dell'ordine. Ha lasciato dietro di sé una scia di paura e distruzione, un'impronta indelebile nella storia criminale degli Stati Uniti. Robert Joseph Long, detto Bobby, nasce il 14 ottobre 1953 e cresce in Florida, a Miami. Vive lì con sua madre che si chiama Luetta Long. Subito dopo la nascita di Bobby, i medici riscontrano in lui una condizione genetica chiamata sindrome di Klinefelter. Il bambino è nato con un cromosoma X in più e questo disordine endocrino provoca un'eccessiva produzione di estrogeni con la conseguenza di assumere dei tratti femminili. Infatti Bobby, durante la pubertà, sviluppa il seno. Al contrario, data la carenza di testosterone, gli organi dell'apparato genitale maschile sono più piccoli della media. Si verifica una riduzione dei peli, sia del corpo che del viso e anche una diminuzione della massa muscolare. Infine, questa anomalia aumenta il rischio di ansia e depressione o può indebolire le ossa, stimolare malattie polmonari o tumore al seno. Come immaginabile, questa condizione di salute influenza Bobby per tutto il suo vissuto. A questo si aggiunge che cresce in un clima familiare caotico e abbastanza violento. Sua madre ha dato alla luce Bobby quando aveva solo 17 anni, mentre suo padre ne aveva 23. Tuttavia, l'uomo quando il bambino ha soltanto due anni va già via da casa e Bobby non lo rivedrà mai più. Resta vivere con la mamma, che però non è un genitore molto presente. Luetta dà priorità a se stessa, i suoi bisogni e la sua felicità sono più importanti del figlio. Esce spesso a festeggiare, beve parecchio e ogni volta affida Bobby ad altre persone come vicini, amici o familiari, con il risultato che il bambino non viene cresciuto realmente da sua madre. Quando Bobby entra nella sua prima infanzia, Luetta trova un impiego come cameriera e viene incentivata a indossare abiti più succinti. Bobby odia profondamente il suo vestiario e la giudica male per questo. Ma a peggiorare la situazione è il comportamento di Luetta, che nel bar in cui lavora conosce degli uomini e, quasi tutte le sere, li porta a casa. Condivide con loro delle avventure di una notte ed è sconvolgente sapere che consuma questi rapporti nello stesso letto in cui suo figlio sta dormendo, perché è l'unico presente nel piccolissimo appartamento dove vivono. Ma non è finita qui, siccome Bobby è un bambino che viene trascurato, spesso ha degli incidenti in cui si fa male. Ho deciso di menzionarveli tutti per farvi capire quanto sua madre se ne fregasse di lui, non lo controllava mai. Quando Bobby ha quattro anni, Luetta lo porta a trascorrere una giornata in spiaggia, ma si distrae perché comincia a flirtare con un gruppo di uomini che le si è avvicinato. Ignora completamente Bobby che nel frattempo sta facendo il bagno. Mentre sua madre conversa con gli sconosciuti, Bobby viene travolto da un'onda e trascinato in fondo al mare, rischiando di annegare. Sua madre neanche se ne accorge e Bobby riesce a sopravvivere soltanto perché viene salvato da alcuni bagnanti che stavano nuotando e hanno visto cosa è successo. All'età di cinque anni Bobby è al parco con sua madre e si sta dondolando sull'altalena. Il seggiorino della giostra però si stacca, Bobby fa un volo e ricade a testa in giù su un bastone che gli si infilza in una palpebra. Miracolosamente, non so come sia possibile, non perde la vista, ma si fa molto male. All'età di sei anni Bobby sta pedalando sulla sua bici, sta andando molto veloce e probabilmente non ha ben chiaro l'uso dei freni. Infatti si schianta contro un'auto parcheggiata subendo una commozione cerebrale. Poco tempo dopo ancora cade a testa in giù dalla groppa di un pony ferendosi nuovamente la testa. Passa qualche mese e Bobby si arrampica su una staccionata, ma cade di nuovo a testa in giù e si ferisce di nuovo al capo. Questa volta i dottori gli mettono dei punti di sutura. Quando Bobby ha sette anni fa visita ad alcuni parenti sta giocando con la neve quando corre in strada e viene investito da un'automobile. Se non ci fosse stata la neve e Bobby non avesse indossato una tuta invernale tanto spessa ad assorbire parte dell'impatto, sarebbe morto a causa di questo incidente. Per sua fortuna sopravvive ma subisce un grave trauma cranico, si rompe la mascella e perde diversi denti. Bobby cresce, si avvicina all'adolescenza e in questo periodo sua madre non ha un soldo, quindi due sono costretti a lasciare il loro piccolo appartamento per trasferirsi a casa della mamma di Luetta, dove vivono già tre zie di Bobby e ben sette cugini. In questo nuovo ambiente domestico Bobby deve continuare a condividere il letto con sua madre, la quale non smette di portare a casa uomini sconosciuti durante le sue serate all'insegna dell'alcol. Luetta persiste nell'avere dei rapporti intimi fugaci, mentre Bobby dorme nello stesso letto, ma ora è quasi un adolescente. Inoltre proprio perché sta entrando nell'adolescenza Bobby esibisce sempre più i sintomi della sindrome di Klinefelter. Come accennato all'età di 12 anni inizia a sviluppare il seno e questo lo porta a essere vittima di bullismo. Bobby diventa consapevole del suo corpo e del suo aspetto e si rifiuta di cambiarsi davanti ai coetanei, di partecipare alle lezioni di ginnastica e anche a quelle di nuoto, a meno che non indossi una maglietta. Dopo aver accumulato numerose prese in giro, Bobby e sua madre decidono che si sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico di riduzione del seno. Per Bobby questa operazione è molto dolorosa e durante la convalescenza inizia a covare una rabbia davvero profonda. Bobby è dirato perché è vittima di bullismo a scuola, perché aveva sviluppato il seno, perché ha dovuto sottoporsi a questo intervento dolorosissimo e si chiede perché sia capitato proprio a lui. Le riflessioni sulla sua condizione di salute fomentano il suo odio verso le donne e comincia indirizzando la propria collera verso la madre. Bobby è molto risentito nei suoi confronti per come lei lo ha sempre cresciuto perché non si è mai preoccupata per lui e lo ha sempre trascurato. Loretta intanto continua a indossare vestiti provocanti e Bobby ancora detesta vederla ghindata così. Poi, come immaginabile, il motivo principale per cui non la sopporta è che lei non si fa alcun problema a consumare dei rapporti intimi nello stesso letto in cui dorme anche suo figlio. Bobby inizia a urlarle contro, la insulta, le dice che è la madre più terribile del mondo. Dopo aver vissuto in casa con sua mamma, le sue sorelle e i cugini di Bobby per un po', Luetta riesce a racimulare dei soldi quindi si trasferisce altrove con il ragazzino. Bobby che ora ha 13 anni e sua madre riprendono a vivere da soli e finalmente il ragazzo ha la possibilità di avere una camera da letto tutta per sé. Tuttavia Bobby sceglie nuovamente di condividere il letto con sua madre. In realtà non sono stupita di questa scelta perché Bobby ha sempre dormito con lei fin dall'infanzia e ormai è talmente abituato a questa situazione che vedere sua madre mentre si intrattiene con altri uomini comincia a piacergli. Questa situazione si protrae infatti per tutto l'anno successivo. All'età di 14 anni Bobby incontra la 13enne Cindy Bartlett e si innamora di lei. I due ragazzini iniziano una relazione e hanno quasi subito rapporti intimi. Bobby è stato circondato dal senso fin dal momento in cui è nato. È da tutta la vita che vede sua mamma consumare rapporti intimi ogni singola notte. Ecco perché ad appena 14 anni vuole averli anche lui. Bobby però è molto dolce con Cindy. I due si trovano davvero bene assieme. Lei è l'unica presenza stabile nella vita del ragazzino che continua a essere molto rancoroso verso sua madre. Quindi anche se adesso Bobby vive finalmente la vita di un comune adolescente, il rapporto con la mamma rimane teso. Un lato violento si nasconde in Bobby ma viene fuori solo quando litiga con i compagni a scuola. A parte questo lui continua la sua relazione con Cindy che procede molto bene. Arriviamo al 1972. Bobby ora ha 19 anni. Ha abbandonato la scuola e decide di arruolarsi nell'esercito. È distanza in una base in Florida e un paio di anni dopo nel gennaio del 1974 lui e Cindy si sposano. Purtroppo il loro non sarà un matrimonio felice. Dopo soli due mesi dalle nozze il rapporto entra in crisi perché Bobby ha un altro incidente. Una sera Bobby sta viaggiando sulla sua moto ma va troppo veloce. Guida in modo spericolato. Viene urtato da una macchina il cui conducente non l'ha visto e viene sbalzato via dalla sella. Fa un volo di 30 metri e batte la testa sul marciapiede rompendo anche il casco. Poco dopo la sua moto gli cade addosso. Bobby è in uno stato terribile. Non riesce a parlare, sanguina dalla testa, una delle sue gambe è intrappolata dalla moto e quando i paramedici arrivano sul posto temono che Bobby non sopravviva. Il giovane viene portato in ospedale d'urgenza e di nuovo miracolosamente riesce a sopravvivere. Riporta però ferite gravi. La sua gamba è così danneggiata che prendono in considerazione l'idea di amputargliela ma alla fine riescono a salvarla senza ricorrere a una pratica così drastica. Gli mettono tutt'ora per il collo e la spalla, non può muovere la schiena e gli inducono il coma per tre giorni. Dopodiché Bobby si sveglia ed è una persona completamente diversa. Il cambiamento più grande che Cindy nota riguarda il suo desiderio di avere rapporti che sale alle stelle. Prima dell'incidente Bobby e Cindy avevano rapporti intimi due o tre volte a settimana ma adesso lui vuole portarla a letto in più occasioni durante il giorno. Pretende persino di consumare l'atto in ospedale mentre si sta ancora riprendendo. Inoltre le infermiere notano che Bobby si procura piacere da solo davanti alle persone più volte al giorno. Quando suo marito lascia l'ospedale Cindy spera di riavere presto l'uomo che ha sposato. Crede che Bobby sia semplicemente stressato, forse le medicine che gli hanno somministrato gli hanno stimolato qualche effetto collaterale avverso, ma sfortunatamente non è così. Bobby non sarà mai più lo stesso. L'uomo una volta tornato a casa manifesta una rabbia incontrollata e diventa violento nei confronti di Cindy. Tutto gli dà sui nervi e la povera Cindy è sempre in tensione perché non sa mai cosa potrebbe farlo scattare. Bobby si infuria davvero per le questioni più banali. Se Cindy gli prepara una colazione che lui non gradisce abbastanza oppure se non piega la biancheria come piace a lui. La coppia inoltre litiga molto anche per le difficoltà economiche che sta affrontando perché Cindy è l'unica che lavora. Nonostante lei si impegna al massimo Bobby quando si infervora è verbalmente offensivo nei suoi confronti. Le dice delle cose orribili. Il modo in cui la tratta in pratica ricorda come si comportava con sua madre quando era più piccolo. In breve tempo Bobby oltre a essere verbalmente violento diventa anche fisicamente abusivo. Ora quando non approva ciò che fa Cindy le mette le mani addosso e la picchia. Malgrado sia così aggressivo con lei pretende che sua moglie lo soddisfia letto più volte al giorno. Cindy per carità ogni tanto consente ma la maggior parte delle volte non se la sente. Allora Bobby si approfitta di lei. Queste dinamiche altamente tossiche e problematiche vanno avanti per anni e onestamente sono molto dispiaciuta per Cindy. Bobby era l'amore della sua vita. Si erano incontrati quando andavano al liceo. Sono cresciuti insieme. E poi all'improvviso dopo questo terribile incidente si ritrova con accanto un mostro. Bobby è cambiato in modo davvero drastico ma Cindy spera con tutta se stessa che questi suoi comportamenti siano temporanei. Si augura che prima o poi l'uomo che ha sposato torni a essere gentile e dolce. Ecco perché rimane con Bobby per tanto tempo ancora. In realtà Bobby è pure un gran manipolatore perché riesce a convincere Cindy di essere sempre quell'uomo dolce che lei aveva conosciuto. Dopo averla picchiata le chiede sempre scusa e lei implora di concedergli il suo perdono. Cindy accetta le scuse ma Bobby è pronto a farle del male di nuovo. Questo circolo vizioso non viene mai interrotto tanto che negli anni successivi la coppia mette al mondo due figli. Bobby continua comunque a essere violento e ora agisce in modo inappropriato anche nei confronti delle altre donne. Nello specifico approccio in maniera alquanto inquietante le giovani babysitter dei suoi figli. Poi nell'estate del 1980 ovvero sei anni dopo l'incidente in moto il 26enne Bobby picchia sua moglie Cindy così forte da farla finire in ospedale. Cindy accusa spesso ferite terribili perché Bobby la picchia sempre più selvaggiamente. Pensate che le ha rotto il naso per ben tre volte. Dopo quest'ultimo episodio Cindy decide che ne ha abbastanza non vuole più sopportare tutto questo ormai si è arresa Bobby non cambierà mai. Così dopo essere tornata a casa dall'ospedale una sera Cindy recupera un fucile a doppia canna lo carica e si dirige nella camera da letto dove il marito sta dormendo. Si siede sul lato del letto e punta l'arma verso Bobby però non fa nulla rimane lì tutta la notte a pensare. Se avesse premuto il grilletto quell'incubo sarebbe finito ma per fortuna pensa anche ai suoi figli. Se spara al loro padre lei finirà in prigione e loro rimarranno soli. Cindy passa ore e ore seduta sul letto col fucile puntato contro Bobby fino a quando lui si sveglia la guarda poi osserva il fucile e scoppia a ridere. Con fare tranquillo si ricompone la fissere dice avanti sparami non hai il coraggio. Cindy prova una rabbia tale da voler premere davvero quel grilletto ma alla fine rinuncia non ce la fa proprio a uccidere il padre dei suoi figli quindi lascia il fucile a terra ed esce dalla stanza. Dopo questa notte tormentata Cindy prende una decisione importante è sicura di una cosa ne ha abbastanza e non tornerà indietro dunque chiede il divorzio. In questo modo si libera finalmente di Bobby e anche i suoi bambini saranno al sicuro. Arriviamo al 1981 Bobby ha 27 anni ed è single dopo una vita trascorsa in coppia decide di lasciare Miami per stabilirsi a Tampa sempre in Florida. Va a vivere in una casa dove c'è un altro coinquilino e trova lavoro come tecnico di radiologia al Tampa General Hospital. Bobby ora potrebbe cominciare una nuova vita magari più sana ma ha ancora un problema. Il desiderio sessuale lo stordisce. Non si è affatto abbassato e adesso non può più disporre del corpo di Cindy come meglio crede così per assecondare i propri appetiti inizia ad approfittarsi di altre donne. In realtà si presume che Bobby aggredisse intimamente altre donne fin da prima cioè mentre stava ancora con la moglie ma non ci sono prove che lo dimostrino. Si sono verificate diverse aggressioni intime nella zona in cui viveva e non è mai stato individuato un colpevole ecco perché si sospetta che Bobby al tempo fosse già un molestatore seriale. Per individuare delle donne di cui approfittarsi ora Bobby decide di consultare gli annunci pubblicati sui giornali. La gente di solito utilizzava questi spazi per proporre la vendita di oggetti che non usava più come mobili, televisori, automobili eccetera eccetera. Oggi se vogliamo vendere qualcosa ci affidiamo al web, pubblichiamo un annuncio su ebay o su marketplace di facebook ma negli anni 80 internet non c'era e le persone ricorrevano a dei giornali appositi. Bobby decide quindi di acquistare il giornale locale, leggere gli annunci economici e cerchiare tutti quelli pubblicati da donne. Dopodiché le chiama per fissare un appuntamento proponendo di andare a casa loro per visionare l'oggetto che hanno messo in vendita, a cui si dice interessato. Bobby quindi entra con l'inganno in casa di queste sconosciute, si guarda intorno, controlla che non ci sia nessun marito o fidanzato in giro, tira fuori il suo kit per le aggressioni e assalta la donna, la lega e la sottomette brutalmente. Poi se ne va pure in giro per casa cercando qualcosa di valore da rubare. Infine fugge dall'abitazione lasciando la poverina di turno ancora legata e traumatizzata. Bobby si comporta in questo modo per ben tre anni, esercita violenza su un numero impressionante di donne senza mai essere catturato. Ma i suoi crimini non passano di certo inosservati, la gente ormai sa che in zona c'è un aggressore seriale e col tempo gli affibbia anche un soprannome, ovvero l'aggressore degli annunci pubblicitari. Un paio di volte Bobby si scontra con la legge. Una collega lo accusa di violenza intima e lui finisce in tribunale, ma la giuria ritiene che la donna che lo ha accusato stia mentendo, quindi Bobby riesce a cavarsela. Durante lo stesso anno viene sorpreso a inviare delle foto in cui si mostra senza vestiti, come mamma l'ha fatto, e delle lettere oscene a una ragazzina di 12 anni. Anche in questo caso va a processo, ma riceve soltanto una multa di 70 dollari e gli vengono concessi sei mesi di libertà vigilata. Nell'aprile del 1984 Bobby punta una pistola contro una donna di nome Mary, le ordina di salire in macchina e di guidare per raggiungere un posto appartato con l'intenzione di approfittarsi di lei. Mary è costretta a obbedirgli e Bobby è seduto accanto a lei al lato del passeggero, ma durante il viaggio Mary va a sbattere di proposito contro un palo del telefono. L'auto si schianta, Bobby rimane intrappolato in macchina e Mary riesce a fuggire. Va dalla polizia e racconta tutto quello che è successo. Così Bobby viene arrestato, ma la polizia non riesce a trovare la pistola descritta da Mary e in sostanza l'aggressore non viene accusato di nulla. Per ben tre anni Bobby individua le sue prede grazie agli annunci pubblicitari e fa violenza su di loro. Il numero certo delle vittime è sconosciuto, ma si presume che siano più di 100 donne. Trova assurdo che non sia mai stato catturato, dato che le donne da lui aggredite lo hanno visto in faccia. Sì, non tutte sono andate alla polizia per paura, ma alcune l'hanno fatto. Dunque, perché la polizia non ha elaborato un identikit? Perché Bobby non è stato catturato e chiuso in prigione? A distanza di tre anni, però, le azioni di Bobby si fanno ancora più malvagie senza scrupoli. Perché? Oltre ad aggredire le donne inizia anche a ucciderle. È il 28 maggio 1984 quando Bobby decide che è giunto il momento di cambiare il metodo per adescare le sue vittime. Non vuole più ricorrere alla sezione degli annunci economici pubblicati sul giornale, sistema ormai rischioso e che richiede troppo tempo. Come detto, deve leggere tutti gli annunci stampati, sottolineare quelli scritti da donne, chiamarle e poi andare da loro, assicurandosi che siano da sole. E spesso non lo sono. Insomma, vuole evitare questo spreco di tempo. Bobby ora preferisce aggredire una donna nel momento stesso in cui ne avverte l'esigenza, quindi sale in macchina e raggiunge una zona frequentata dalle passeggiatrici. Bobby va proprio a cercarne una, così si imbatte in Artist Ann Wick. La invita a salire a bordo della sua macchina e, invece di pagarla per avere un rapporto, si approfitta di lei. Ma stavolta, il piacere della sopraffazione intima non gli basta. La sola aggressione non gli dà più un appagamento sufficiente. Vuole andare oltre, sfogando la rabbia che nutre nei confronti delle donne. Artist Ann Wick è una passeggiatrice che gli ricorda sua madre. Sì, in effetti Luetta non faceva lo stesso mestiere e era una cameriera, ma entrambe indossano abiti provocanti e Bobby non l'ha mai sopportato. Così dopo aver aggredito Artist le mette le mani intorno al collo e la strangola. Lo fa per diversi minuti, godendosi la sensazione di potere e di controllo derivante dalla sottomissione della povera donna, finché lei perde la vita. Bobby allora va nel panico, all'inizio non sa cosa fare e infine scarica il corpo di Artist in un fiume vicino e scappa il più velocemente possibile. È chiaro che da questo momento qualcosa è cambiato davvero in Bobby. Ha commesso il suo primo omicidio. Non si sa se lui abbia secondato il proprio desiderio di uccidere razionalmente o si abbia perso il controllo. In ogni caso, ammazzare una donna gli è piaciuto e vuole continuare a farlo. Tuttavia, inizialmente, Bobby ha paura di essere scoperto. Sì, finora l'ha fatta franca nonostante le aggressioni intime perpetrate, ma non è abituata a uccidere e gli omicidi sono crimini dalla portata ancora maggiore. Quindi Bobby controlla ossessivamente i notiziari per sapere se il corpo di Artist viene scoperto. Il tempo passa, ma la polizia non trova il cadavere della passeggiatrice, quindi non va a bussare alla porta di casa di Bobby per arrestarlo. Allora lui si rilassa. A Bobby è piaciuta la sensazione che ha provato nello strangolare la sua prima vittima e ora vuole rifarlo, vuole riprovare quell'euforia. Così, due mesi dopo l'omicidio di Artist, Bobby trova il coraggio di colpire ancora. È il 13 maggio del 1984 quando sale in macchina per cercare la sua prossima vittima. Si dirige in una zona di tampa nota per la presenza di strip club e passeggiatrici e ad occhio alla 19enne Nguyen T. Long, detta Lana. Lana ha terminato il suo turno di lavoro come ballerina in un club lì vicino e sta tornando a casa da sola. Allora Bobby si ferma accanto a lei e le chiede se vuole un passaggio. Lana accetta, sale nella sua macchina e i due iniziano a chiacchierare. Lei gli spiega dove si trova casa sua ma Bobby ignora le sue indicazioni stradali e guida verso una zona di campagna. Dopodiché tira fuori un coltello e costringe Lana a spogliarsi per poi aggredirla. Proprio come era accaduto qualche mese prima, la soddisfazione intima non gli basta più, non lo appaga a pieno, sente il bisogno di uccidere. Così recupera un pezzo di corda, lo avvolge attorno al collo di Lana e la strangola a morte e poi abbandona il suo corpo in un campo lì vicino. Dopo aver tolto la vita Lana, Bobby è in estasi. Ora non si fermerà più davanti a niente e a nessuno. È sicuro che riuscirà a passarla liscia. Solo due settimane dopo, il 27 maggio 1984, Bobby torna nella stessa zona di Tampa, nota per gli strip club e le passeggiatrici. Compie un atto molto rischioso visto che si aggira nel posto in cui ha adescato la sua precedente vittima. Nota una donna avvenente di nome Michelle Denise Sims, di 22 anni. Michelle è un ex concorrente di un concorso di bellezza californiano, ma si è trovata in una situazione complicata ed è finita a lavorare come passeggiatrice per sbarcare il lunario. Bobby replica l'iter cruento delle sue azioni, la comincia a salire in macchina, la porta in una zona desolata, le ordina di spogliarsi, si approfitta di lei, la strangola e le taglia la gola per poi scaricare il suo corpo e fuggire. Passano altre due settimane e a questo punto l'escalation di omicidi si intensifica. L'8 giugno 1984 Bobby però cambia tattica, guida per le strade alla ricerca di una donna che stia camminando da sola e si imbatte nella 21enne Elizabeth Laudenbeck. Lei fa l'operaia e sta tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Bobby le si accosta accanto e le offre un passaggio. La ragazza accetta, poi lui estrae il coltello, la minaccia e si dirige verso una zona boscosa appartata. Qui aggredisce Elizabeth due volte per poi strangolarla con un pezzo di corda. Scarica il suo corpo sul lato della strada e se ne va. A questo punto Bobby ha già ucciso quattro donne e tre di questi delitti sono avvenuti nel giro di un mese, il che è assurdo, la sua furia omicida sembra non avere periodi di tregua. Nel frattempo le autorità sono sulle sue tracce perché tre delle quattro vittime di Bobby sono state trovate. Soltanto la prima, Artis risulta ancora dispersa. Quando i corpi di Lana, Michelle ed Elizabeth sono stati rinvenuti, gli investigatori hanno intuito ben presto di avere a che fare con un serial. Ne sono certi perché tutte e tre le vittime sono state uccise in zone isolate ma scelte senza troppa cortezza e i loro cadaveri erano stati sistemati in posizioni degradanti dal punto di vista intimo. Le donne assassinate erano tutte diverse a pancia in giù, con le mani legate dietro la schiena e le gambe divaricate. Inoltre su tutti e tre i corpi sono state trovate delle fibre di tessuto rosso che molto probabilmente provengono dallo stesso tappeto, forse il tappetino di una macchina. Quindi tutte e tre le vittime erano salite sullo stesso veicolo, erano state aggredite intimamente dal conducente ed erano state strangolate. Con la consapevolezza di essere sulle tracce di un serial, l'ufficio dello sceriffo contatta l'FBI chiedendo collaborazione per stilare un profilo sul soggetto delle indagini. A me stupisce sempre l'abilità con cui gli esperti riescono a delineare un profilo criminale accurato basandosi soltanto su pochi fatti o prove inerenti al caso. Dunque l'FBI conclude che l'assassino è un maschio bianco che ha divorziato recentemente, che aveva abbandonato la scuola superiore ed era stato arruolato nell'esercito. Il colpevole dimostra di avere dei problemi nel gestire la rabbia e di provare un forte risentimento nei confronti delle donne. Bobby intanto si ferma, o meglio evita di commettere omicidi per circa tre mesi. È di nuovo preoccupato di essere scoperto, ma dato che nessuna gente bussa mai alla sua porta, stabilisce che può tornare a uccidere di nuovo. Il 7 settembre del 1984, Bobby nota una donna di nome Vicky Elliot. Lei lavora in un albergo e sta raggiungendo all'hotel per svolgere il suo turno di notte. Bobby come al solito si ferma accanto a lei, le offre un passaggio, Vicky accetta, ma appena sale in auto Bobby estrae il coltello, la minaccia e guida verso una zona isolata. Le ordina di spogliarsi, la aggredisce intimamente, la strangola a morte, infine scarica il suo corpo e se ne va. Come avrete notato il modus operandi dell'assassino è sempre lo stesso. Tre settimane dopo, il 30 settembre 1984, Bobby individua la diciottenne Chanel Williams che sta camminando per strada da sola. È stata rilasciata da due giorni dal carcere dopo essere stata arrestata per prostituzione. Chanel sale in macchina con Bobby e lui la conduce in una zona isolata. Bobby le ordina di togliersi i vestiti, si approfitta di lei, comincia a strangolarla, ma non a morte. Questa volta fa qualcosa di diverso, ma comunque nulla di magnanimo, perché spara a Chanel alla nuca. Lei muore proprio per la ferita d'arma da fuoco riportata sul retro della testa. Bobby sistema il suo corpo in una posa degradante e come al solito si allontana. Appena due settimane dopo, il 13 ottobre, Bobby si interessa alla 28enne Karen Dean's Friend. La porta in una zona appartata, l'aggredisce intimamente, la strangola a morte e poi scarica il suo corpo come da copione. Bobby sta uccidendo molte donne, lo sta facendo davvero velocemente e anche i corpi di Chanel e Karen vengono trovati presto. Ogni elemento, dalla modalità di addescamento, a quella dell'attuazione del delitto fino a quella della disposizione del cadavere, conferma agli investigatori che questi omicidi sono opera dello stesso serial, ma purtroppo faticano a trovare delle prove che portino a Bobby. Passano altre due settimane, è il giorno di Halloween del 1984 e Bobby colpisce ancora. Aggredisce e strangola a morte la 22enne Kimberly Kyle Hopes, poi l'abbandona e se ne va. Anche il corpo di Kimberly viene scoperto abbastanza velocemente, quindi finora la polizia ha rinvenuto ben sei cadaveri, ma non ha ancora idea di chi abbia commesso questi omicidi. Le donne della città adesso hanno paura di uscire da sole, nuove vittime vengono trovate a un ritmo allarmante e sulla polizia viene esercitata molta pressione affinché l'omicida venga assicurato alla giustizia. Pensate che il noto serial statunitense Ted Bundy, autore di almeno 30 delitti, si offre di aiutare i detective a catturare questo misterioso assassino. Nel frattempo Bobby se ne sta a casa propria, spaparanzato sul divano, a guardare i telegiornali e viandosi del panico che sta sterminando tra la gente. Bobby non ha più paura di essere scoperto, ha fatto violenza su più di un centinaio di donne ormai e ne ha uccise otto. È un criminale arrogante, convinto che non sarà mai stato catturato. Si sente invincibile, ecco perché decide di cambiare metodo. Invece di convincere la vittima a salire a bordo della sua macchina, Bobby vuole rapire una donna, portarla in casa propria e imprigionarla come fosse una schiava, in modo da poterla aggredire quando e come vuole. La ragazza su cui ha messo gli occhi la 17enne, Lisa McVeigh, vi parlo un po' di lei. Lisa nasce nel marzo del 1987, ha una sorella gemella e un fratello. I suoi genitori sono entrambi sia alcolizzati che dipendenti dalle sostanze. Suo padre scompare molto presto dalla sua vita e sua madre, sempre intontita dalle sostanze, non si prende ugualmente cura di lei. Quindi, alla tenera età di due anni, Lisa viene data in affidamento e si sposta tra diverse famiglie per cinque anni. Non riesce mai a trovare un ambiente adatto a lei fino all'età di sette anni, quando viene di nuovo affidata alla sua mamma biologica. Ma in realtà la situazione non migliora perché sua madre ha ancora problemi di dipendenza e non ha soldi, quindi si ritrovano a non avere più una casa in cui vivere. Si trasferiscono in vari campi che ospitano senza tetto e dormono nei sedili posteriori delle macchine. Lisa non riceve mai amore, cure o attenzioni da sua madre. Quando ha 13 anni, Lisa va ad abitare dalla nonna materna, ma la sua vita continua a precipitare perché il fidanzato della nonna è un pedo che la è importuna e si approfitta di lei. Questa situazione va avanti per quattro anni, Lisa viene aggredita intimamente tutti i giorni e quell'uomo viscido arriva a definirla la sua ragazza. Per ottenere che lei sia più docile, le punta una pistola alla testa e la minaccia. Le sussurra all'orecchio che se mai avesse raccontato a qualcuno degli abusi, lui avrebbe ucciso la sua gemella. Lisa, terrorizzata, non dice mai nulla. Quando compie 17 anni, però, non ce la fa più a vivere in queste condizioni. Ma siccome non sa dove e come fuggire, tenta di togliersi la vita. Il 2 novembre 1984, Lisa scrive un ultimo messaggio su un foglio. Progetta di farla finita prima che spunti l'alba. E proprio in quella giornata si imbatte in Bobby Jolong. Lisa ha concluso il suo turno di lavoro in un negozio di ciambelle. Sono le due di notte e, come sempre, sta tornando a casa da sola. Non ha paura, perché ci è abituata. Mentre percorre il tragitto, passa davanti alla chiesa locale, che, a quell'ora, è sempre deserta. Ma la notte del 2 novembre c'è una macchina nel parcheggio dell'edificio sacro. Che strano, pensa Lisa, e si avvicina all'automobile per dare un'occhiata. Ma all'improvviso sente un braccio afferrarla da dietro. Percepisce che qualcuno le sta puntando una pistola alla nuca e una voce maschile le sussurra all'orecchio. Se urli, ti uccido. Quell'uomo, purtroppo, è Bobby, che trascina Lisa verso l'auto, ferma nel parcheggio della chiesa e benda la ragazzina, in modo che non possa vedere la sua faccia. Una volta in macchina, Bobby ordina Lisa di togliersi i vestiti e poi la obbliga a salire sul sedile posteriore, preannunciandole che si sarebbero divertiti un sacco insieme. Dopodiché le fa violenza intima in modo davvero brutale. Lisa si sforza di mantenere la calma perché ha una pistola puntata contro e perché conosce la situazione. La poverina subisce da anni le medesime aggressioni esercitate dal compagno della nonna. Così pensa che se asseconderà Bobby su ciò che vuole, lui le permetterà di sopravvivere. Lisa, quella notte, aveva deciso di togliersi la vita, ma ora che è seriamente in pericolo, capisce che non vuole morire. Spera di sopravvivere per i suoi fratelli, che si prenderà cura di loro se lei non ci sarà più. Bobby, mentre guida verso casa, obbliga Lisa, già bendata, a sforgersi sul sedile del passeggero per praticargli del piacere con la bocca. Quando arriva una destinazione, Bobby trascina Lisa fuori dall'auto, fino al suo appartamento. Lei è ancora bendata, quindi non vede nulla. Bobby la spinge sul letto e le fa violenza di nuovo, poi la aggredisce ancora, nel bagno. Dopodiché cambia atteggiamento, inizia a essere gentile con Lisa. L'obbliga a farsi una doccia con lui, ma si comporta in modo premuroso, come se fosse la sua fidanzata. Le lava i capelli, le insapona il corpo, le dice che è molto carina e una volta fuori dalla doccia, le spazzola e le asciuga i capelli. Ogni tanto ridacchia dicendo a Lisa che lei gli piace tanto e infine commenta, forse dovrei tenerti. La 17enne è terrorizzata, ma non vuole farlo capire a Bobby, quindi sta al suo gioco, sorride con lui e gli dice, beh sì, forse potrei essere la tua ragazza. Recita la parte dell'ingenua, vuole ingannare Bobby, guadagnare la sua fiducia e portarlo ad abbassare la guardia. Bobby in effetti inquadra Lisa come una ragazzina stupida, ma non sa quanto si sta sbagliando. Lei lo supera chiaramente in astuzia e lo sta manipolando. Bobby a questo punto chiede a Lisa se possono avere un altro rapporto e lei acconsente. Successivamente Bobby la obbliga di nuovo a provocarle piacere con la bocca. Questo accade diverse volte e lui crede che Lisa si stia divertendo. Invece lei sta vivendo un incubo che dura per ore intere e alla fine Bobby le chiede pure di fargli un massaggio alla schiena perché ha avuto una lunga giornata e ha davvero bisogno di rilassarsi. I due poi si sdraiano a letto e Bobby esorta la sua prigioniera a dormire un po'. Lisa però non riesce a chiudere occhio, è davvero spaventata, mentre Bobby si addormenta in poco tempo. Lisa pensa tutta la notte di voler scappare, ma è terrorizzata perché sa che se Bobby si sveglia e si accorge che lei sta fuggendo, le sparerà immediatamente. Mentre è stesa su quel letto, Lisa riflette su tutti i modi in cui potrebbe aiutare la polizia a catturare questo essere mostruoso. Quando Bobby si sveglia fa di nuovo violenza su di lei. Al termine di questo atto spregevole Lisa inizia a mettere in atto il suo piano. Dice a Bobby che ha bisogno di usare il bagno, ma lui si rifiuta di darle il permesso. Lisa allora insiste, dicendo che altrimenti farà la pipì sul letto. Allora Bobby ha consente. Per la prima volta Lisa è da sola nel bagno dove si è chiusa la porta alle spalle. Inizia così a toccare tutto il lavandino, lo specchio, i mobili, il gabinetto, i pavimenti, le pareti, lasciando ovunque le sue impronte digitali. Quando esce dal bagno Bobby risistema la benda davanti agli occhi, ma Lisa riesce a vedere qualcosa attraverso un piccolo spazio verso il basso. Cerca di notare, di memorizzare quanti più dettagli possibili perché qualora riuscisse a sopravvivere, deve assicurarsi che Bobby venga catturato. Quando Bobby aggredisce nuovamente Lisa, lei gli chiede se può carezzargli il volto, fingendo di provare affetto per lui. Bobby glielo permette e Lisa ne approfitta per tastare lineamenti sul suo viso. Si augura di poter descrivere bene alla polizia l'aspetto di Bobby. Lo tocca ovunque, naso, orecchie, labbra, occhi, sopracciglia. Si rende anche conto che ha i baffi. Poi Lisa prova nuovamente a manipolare Bobby, gli parla in modo dolce, finge di tenerci a lui e vuole che Bobby sia dispiaciuto per lei, quindi gli racconta che è l'unica che si prende cura di suo padre, il quale è molto malato. Lisa inventa che suo padre ha avuto 22 infarti e che sarebbe morto se lei non fosse tornata a casa ad accudirlo. Le sue bugie sortiscono l'effetto sperato perché Bobby ci casca, cominciando a dispiacersi per lei. Allo stesso modo Lisa cerca di ottenere delle informazioni da Bobby, gli chiede quale sia il suo nome, ma lui afferma che non può proprio dirglielo. Lisa allora gli domanda perché stai facendo questo? E Bobby le confessa che lo ha già fatto ad altre ragazze, quindi lei gli chiede da dove arrivi questo bisogno? Che cosa gli era successo? Bobby inizia ad aprirsi con lei, le confida chi odia alle donne, le racconta che ha appena divorziato e sta sfogando la sua rabbia sulle vittime che ha aggredito. Lisa lo guarda ed esclama, oh no, è un vero peccato, forse posso essere la tua ragazza, non dobbiamo dire a nessuno come ci siamo conosciuti, penso che tu sia un bravo uomo. Questa giovanissima donna sta interpretando il suo ruolo molto bene, infatti Bobby si sta già innamorando di lei, le dice che è dispiaciuto per quello che le ha fatto, che si pente di averla rapita e aggredita. Dunque il piano di Lisa sta funzionando. Tuttavia Bobby non ha ancora intenzione di lasciare libera Lisa, anzi vorrebbe tenerla con sé il più a lungo possibile, ma si sente in colpa per aver usato violenza contro di lei, quindi smette di farlo. La fa sdraiare sul letto e la coccola. Alle 3.30 di notte Lisa è ormai stata rapita da 26 ore, il suo assalitore sempre seduto sul letto, la guarda e le dice con calma, non posso più tenerti con me, devo riportarti a casa. Lisa non riesce a credere che il suo piano abbia funzionato e anche abbastanza velocemente. Bobby le dice che non la ucciderà dato che lei deve prendersi cura del suo papà. Per qualche motivo la storia finta della malattia del padre di Lisa l'ha toccato nel profondo. Lei è riuscita a fargli il lavaggio del cervello, l'ha portato a credere alle sue bugie e lo ha manipolato fino a convincerlo a lasciarla libera. Bobby quindi chiede a Lisa dove vive e la riaccompagna a casa. La ragazza ha ancora la benda in faccia, poi Bobby le chiede di scendere dall'auto e infine lei sente il rumore della macchina che si allontana. Lisa rimane lì, ferma, ancora con la benda sugli occhi per circa cinque lunghissimi minuti. È terrorizzata, quasi incredula, pensa che ciò che le sta accadendo sia troppo bello per essere vero. Ha convinto un serial a riportarla a casa. Lisa si fa coraggio, si toglie la benda dagli occhi, entra in casa e scoppia in un pianto liberatorio. La storia di Lisa è davvero incredibile, lei stava progettando con fermezza di togliersi la vita, nella stessa notte in cui un assassino seriale l'ha rapita. E ora, dopo tutto ciò che ha vissuto a causa di Bobby, la sua visione della vita muta completamente. Lisa in questo momento giura a se stessa che farà di tutto per cambiare la sua esistenza. Non ha intenzione di sprecarne neanche un istante perché sente che le è stata data una seconda possibilità. Purtroppo però la situazione di Lisa non è semplice da gestire, ora è tornata a casa di sua nonna e del suo compagno, che fa violenza su di lei quotidianamente. Lisa racconta entrambi quello che le è successo, ma né sua nonna né il suo fidanzato le credono. L'accusano entrambi di mentire, il compagno della nonna li urla contro, gonfia di rabbia, la picchia e le rinfaccia di averlo tradito. Lisa allora denuncia tutto alla polizia, ma persino gli agenti l'accusano di mentire, in quanto secondo loro la ragazza è troppo calma per essere una vittima. Poi anche la nonna di Lisa e il suo compagno vanno alla stazione di polizia per affermare che Lisa sta mentendo. La povera ragazza è avvilita, nessuno vuole crederle, sono tutti schierati contro di lei. Tuttavia Lisa non molla, torna spesso alla stazione di polizia finché trova un agente disposto ad ascoltarla seriamente. Lei gli spiega tutto nel dettaglio e questo ufficiale conosce molto bene il serial che la ragazza sta descrivendo, è proprio l'uomo a cui sta dando la caccia, è lui che indaga su quel misterioso assassino. Lisa lo inquadra come un uomo strano che l'ha portata in casa propria e si è approfittato di lei più volte. Afferma che nella sua auto c'è un tappeto rosso, allora la gente ha un'illuminazione ricordando quelle fibre di tessuto rosso trovate su ogni singolo cadavere delle vittime. Avevano già ipotizzato che provenissero dal tappettino di un'auto. La gente, ascoltando Lisa, resta meravigliato da quanti dettagli lei stia riuscendo a riferirgli, considerando pure che era rimasta bendata per tutto il tempo. È in grado di descrivere l'aspetto di Bobby semplicemente perché ha tastato i lineamenti del suo volto, così i detective possono abbozzare un identikit. Lisa descrive anche l'appartamento, affermando di aver lasciato le sue impronte digitali su tutte le superfici del bagno e persino l'auto che guidava Bobby, una Dodge Magnum rossa con degli pneumatici non corrispondenti. Questa è una prova cruciale perché nel luogo in cui la polizia ha trovato una delle vittime precedenti sono state individuate delle tracce di pneumatici diversi tra loro. In ogni caso gli agenti ora sanno che macchina guida il serial che stanno cercando di catturare. Nel frattempo, mentre Bobby è ancora libero, vengono trovati altri corpi senza vita, come quello della 18enne Virginia Johnson, uccisa prima del rapimento di Lisa. A distanza di pochi giorni da quando Lisa è andata dalla polizia per raccontare la sua versione dei fatti, viene scoperto anche il corpo della 21enne Kim Marie Swan, che Bobby ha ucciso dopo aver lasciato libera Lisa. Kim è proprio l'ultima vittima di Bobby, assassinata a seguito del rapimento di Lisa. Intorno a questo caso si sviluppa un'enorme frenesia mediatica perché i corpi continuano a comparire e la polizia, come detto, è molto sotto pressione. Il 15 novembre del 1984 un agente di polizia in pattuglia sta cercando l'auto del serial, che ancora non è stata trovata. E finalmente individua una Dodge Magnum rossa. Fa costare il veicolo e dentro quella macchina c'è proprio Bobby Jolong. Tuttavia l'ufficiale non ha un motivo che giustifichi l'arresto di Bobby in questo preciso momento, quindi deve lasciarlo andare. Ora però la polizia sa qual è il suo nome e soprattutto dall'archivio riesce a visualizzare una sua immagine. Mostrano la foto a Lisa e la ragazza è in grado di identificare Bobby Jolong. Ha memorizzato i tratti del suo viso grazie al solo uso delle mani, mentre era bendata, ma li riconosce nell'uomo della fotografia. Questo permette alla polizia di arrestare Bobby. Il 16 novembre 1984 Robert Joseph Long viene rintracciato fuori da un teatro e arrestato. L'uomo viene interrogato e inizialmente afferma di essere innocente, nega di essere l'assassino. Poi però la polizia gli racconta di Lisa e di tutti i dettagli che la ragazza ha raccontato. Bobby a questo punto si rende conto che non può farla franca e fornisce una confessione completa dei suoi crimini, raccontando di ogni singolo omicidio. La polizia fino a ora ha trovato otto corpi, ma Bobby confessa di aver ucciso dieci donne ed escrive minuziosamente i due delitti di cui le forze dell'ordine non sapevano nulla. Così anche gli ultimi due cadaveri vengono trovati, quello di Vicky Elliot che era stata abbandonata in un campo e un paio di settimane dopo quello di Artis Ann Wick, la prima vittima di omicidio di Bobby. Bobby viene tenuto in prigione in attesa del processo e poi durante il dibattimento non mostra alcun tipo di rimorso. A un certo punto sputa contro le telecamere presenti in aula. Dopo che tutte le prove vengono fornite e presentate alla giuria, Bobby viene dichiarato colpevole e condannato a morte. Negli anni seguenti Bobby rilascia alcune interviste televisive mentre è rinchiuso nel braccio della morte. Ripercorre i metodi che ha usato per fare violenza sulle donne e spiega di essere un serial, ma afferma di non sapere perché abbia commesso tutti quegli omicidi. Infine parla di Lisa, di quanto fosse speciale, di com'era diversa da tutte le altre ragazze e donne che ha ucciso. È per questo che è viva ancora oggi. Lisa fortunatamente non presta attenzione a ciò che afferma Bobby, non ha alcuna intenzione di permettergli di rovinarle il resto della sua esistenza. Negli anni seguenti Lisa riesce davvero a cambiare il corso della sua vita. Lascia la casa di sua nonna e si stabilisce in un centro giovanile. Studia duramente e infine frequenta l'accademia di polizia. Lisa vuole proteggere i bambini, vuole evitare agli altri gli abusi che ha subito lei, fin da piccola. Infatti quando entra in polizia si specializza in crimini sessuali. Oggi Lisa ha una famiglia. È una poliziotta che lavora nello stesso ufficio dello sceriffo che ha catturato Bobby Jolong. Dopo aver trascorso trent'anni nel braccio della morte, il 23 maggio 2019, Bobby Jolong viene giustiziato tramite l'iniezione letale. Lisa è lì presente. Vuole essere l'ultima persona che Bobby vedrà prima di morire. Bobby, tuttavia, durante tutta l'esecuzione, non apre mai gli occhi. Non riesco ancora a capacitarmi di quanto sia stata forte Lisa. È una donna davvero straordinaria. Ha avuto un'infanzia terribile. Ha subito abbiato i trent'anni ed è stata pure rapita da un assassino e molestatore seriale. Lisa in qualche modo è riuscita a trarre forza da tutte queste esperienze negative, incanalandole per fare qualcosa di positivo per gli altri. E ora è in prima linea, pronta a proteggere le persone più vulnerabili. Lisa è un'autentica fonte di ispirazione. Non ci sono molte informazioni sulle altre giovanissime vittime di questo caso, quindi voglio concludere il video menzionando ancora una volta i loro nomi. Artis Ann Wick aveva vent'anni. Lana Long aveva diciannove anni. Michelle Sims aveva ventidue anni. Elizabeth Lodenbeck aveva ventidue anni. Vicky Elliot aveva ventun'anni. Chanel Williams aveva diciotto anni. Karen D's Friend aveva ventotto anni. Kimberly Kyle Hopps aveva ventidue anni. Virginia Lee Johnson aveva diciotto anni. Infine, Kimmery Swann aveva ventun'anni. È così triste pensare a quante ragazze abbiano perso la vita per mano di Bobby Jolong. A queste si aggiungono le numerose donne, forse un centinaio, a cui Bobby ha fatto violenza intima. Così tante vite sono state distrutte da quest'uomo orribile, rimasto libero e impunito per troppo tempo. Ma vi faccio una domanda molto dibattuta. Siete, o meno, a favore della pena di morte? Io concordo molto di più con l'ergastolo. In America ergastolo equivale quasi sempre a passare l'intera vita dietro le sbarre. C'è il life in prison. Inoltre, secondo voi, è possibile che Bobby abbia iniziato prima a fare violenze e poi ad uccidere a causa di quell'incidente avuto quando era giovane e guidava la motocicletta? Questo evento può aver pregiudicato la sua salute mentale? La sua ex moglie ne è certa. Bobby prima di quell'incidente non era così. Era un uomo generoso e dolce, ma a seguito dell'infortunio le cose sono cambiate e col tempo Bobby è arrivato a commettere abusi e omicidi diventando un serial. Voi che ne pensate? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Questo quindi ci porta alla fine di questo video. Quindi di nuovo vi invito a farmi sapere le vostre opinioni nei commenti, quali sono le vostre teorie? Insomma, cosa pensate appunto di questo incidente che Bobby ha avuto quando guidava la motocicletta? Insomma, scrivetemi quello che volete qui sotto nei commenti perché io sono curiosissima di leggere le vostre opinioni. Io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!